Un camion si è gettato sulla folla a Gerusalemme in corrispondenza di una passeggiata sovrastante la città vecchia. L'assalitore ha colpito un gruppo di soldati che erano appena scesi da un autobus. Dopo averli investiti, l'uomo ha ingranato la marcia indietro, infierendo su di loro. A quel punto i soldati rimasti illesi hanno fatto fuoco su di lui, uccidendolo. Il bilancio, per ora provvisorio, è di 4 morti e 10 feriti.